Ciao, benvenuto al Quarto Scomodo! Io mi chiamo Ania Matuschenko e io sono Manessa Adabire Asnar. Potete seguirci tutti mercoledì e venerdì in diretta dalla nostra pagina Instagram, Il Quarto Scomodo, a partire dalle ore 16. Il nostro è un programma divertentissimo, in cui parliamo assolutamente di tutto, raccontiamo le curiosità del mondo, le informazioni importantissime, a volte anche tristi, ma parliamo anche di tante cose divertenti, facciamo anche tantissimi quiz. Potrete anche seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook oppure sul nostro nuovo sito internet www.ilquartoscomodo.it. Il nostro è un programma bellissimo, perché ci permette di conoscere storie nuove e grandi personaggi. Abbiamo parlato con degli sportivi, abbiamo discusso con i più grandi chef italiani, Abbiamo trattato un argomento che a noi ragazzi interessa tantissimo, la chirurgia estetica, abbiamo avuto dei maghi, ci siamo potute collegare addirittura con Los Angeles diverse volte, ci siamo collegati con Parigi, con Monaco e poi ancora anche con il Perù. Abbiamo parlato di shopping, della moda, abbiamo avuto dei cantautori che hanno cantato per Il Quarto Scomodo, abbiamo parlato con dei grandissimi scrittori che hanno presentato il loro libro, abbiamo avuto attori, musicisti, cantanti, insomma abbiamo potuto intervistare veramente dei grandi personaggi, abbiamo intervistato una documentarista, abbiamo intervistato la vincitrice di un Grammy Award e addirittura un mercante d'arte. Tutto questo è per voi, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e su questo sito del Quarto Scomodo troverete tutte le interviste realizzate nella sezione blog e video con artisti di fama nazionale ed internazionale, per cui buona visione! Vi aspettiamo!